Sette ragazzi, una moto, il casco, la strada, la pelle, il cuore, l'asfalto, percorrere le strade della vita con occhi nuovi. La Route 21 Chromosome on the Road fa tappa ad Arezzo. Il nome dell'iniziativa è emblematico e richiama il mito americano della Route 66, la famosa autostrada che attraversa gli Stati Uniti da est a ovest percorsa per decenni da automobilisti e motociclisti. In questo caso c'è una connotazione particolare, il 21, che fa riferimento a quel cromosoma in più della sindrome di Down. I protagonisti sono infatti sei ragazzi affetti dalla sindrome di Down che a turno salgono a bordo delle Harley Davidson guidate da Papa Sodero percorrendo le strade d'Italia da sud a nord. I biker sono arrivati in Harley Davidson al Palazzo Comunale, dove sono stati ricevuti dal vice sindaco Lucia Tanti. Nata come un viaggio di amici che vanno a trovare altri amici, l'iniziativa si è presto trasformata in qualcosa di più grande, di più coinvolgente, in grado di arrivare non soltanto in ogni città ma soprattutto nel cuore di quanti hanno incrociato il loro cammino. La Route 21 è quindi un'esperienza che trasforma e che cresce. Il viaggio, partito da Palermo il 3 settembre, si chiuderà a Roma il 5 ottobre con l'incontro con Papa Francesco dopo aver toccato 33 città italiane.